Vi è una ripresa effettiva, il prodotto si sta reinternalizzando, tutto il settore della moda e quindi il tessile sta dando dei buonissimi numeri e siamo al paradosso. Qui c'è una questione che io ho definito mera e la ribadisco, un mero conflitto sull'immobile, tra le curatele. 18 posti di lavoro e l'intera attività della manifattura del Casentino sono a rischio. Sono da anni che lottiamo per l'immobile, prima per i macchinari e dopo anche per vedere di avere una soluzione sull'immobile e ce l'aspettavamo. Diciamo che con la vecchia curatela che ha in mano l'immobile, la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa tessere di soci, fino al 2017-2018 c'è stato un rapporto collaborativo. Tant'è che noi eravamo riusciti a comprare tutti i macchinari dell'azienda. Dopodiché il rapporto, premetto che non abbiamo comprato certamente i macchinari per poi andarsene via, quindi è chiaro che c'era un accordo al quale doveva seguire in qualche maniera un titolo per poter continuare a stare dentro l'immobile. Stamani incontro in prefettura e convocazione delle parti per settembre. Il problema è nello stabile che fisicamente ospita l'azienda. Una delle vecchie e precedenti società proprietarie dell'immobile è affidata ad un curatore fallimentare che l'ha messa all'asta. Sapete bene, è una condizione complessa dal punto di vista immobiliare. Si è fatta avanti anche un'azienda molto importante del territorio. Aruba, sì, confermo Aruba, è la società immobiliare di Aruba che si è, per così dire, aggiudicata un'asta, ma anche su quell'asta c'è bisogno di comprendere se il titolo no, per così dire, dà, secondo il mio modesto avviso, qualche problema ce lo vedo, per dire che quello è Cacio Vinto. Un intreccio complesso tra vecchia e nuova società, tra curatori fallimentari, tra potenziali acquirenti dell'immobile che adesso rischia di far sparire questa importante realtà. Abbiamo il nostro più grosso cliente, che ora non voglio nominare, che è disponibile a comprare immobile, macchinari, ma non disponibile a parole. Ha già fatto le pecche agli enti competenti con le cifre pronte per essere disponibili delle curatele. E quindi, dopo di questo, il problema è che l'immobile, il curatore dei macchinari, non ha nessun problema su questo. L'immobile, c'è una giudicazione risalente al 2018, a un'altra società, la quale però non ha mai erogitato a oggi, e sono tre anni e mezzo, perché evidentemente l'immobile era messo all'asta come occupato, perché c'eravamo noi e tutt'oggi ci siamo, e evidentemente questa società vuole l'immobile libero.